Prosegue il momento favorevole per l'Atletico Maida che oggi batte il Cerva per 2 a 1 e mantiene la sua quarta posizione in classifica alle spalle di Rocca di Neto, Scandale e Caraffa e tenendo a due punti di distacco il Borge cui dovrà proprio domenica prossima rendere visita. Comunque dicevamo del bel momento della squadra di Maida che è al settimo risultato utile consecutivo comprensive anche ovviamente della sosta imposta dal calendario e che oggi ha avuto la meglio su una squadra che in settimana aveva fatto il recupero contro il Giri Falco e che probabilmente ha dimostrato di essere un osso duro per la squadra di casa. C'è voluto una doppietta di Vescio al venticinquesimo e al cinquantaquattresimo per l'Atletico Maida per portare il risultato sul 2 a 0 poi nel finale la rete di Donnici rischiava di rimettere in discussione il risultato ma è stata brava la squadra di casa a mantenere questo vantaggio che ha portato tre punti importanti per la stessa classifica.